Credo che abbiamo disputato una partita simile a quella di Biella, dove questa volta non abbiamo perso le staffe nel momento clou, dove la partita è stata preparata su tre giocatori, su Vosquil, su Callan e su Maresca, dove Vosquil si preparava benissimo perché prima o dopo faceva Canens, infatti è andata di striscia. L'importante comunque era ridimensionare il valore di Giuliano Maresca e di Craig Callan, alla fine è venuto fuori Meini, però se ben vi ricordate la scorsa settimana avevo detto che c'erano 5 giocatori che andavano sempre in doppia cifra, non sono andati due giocatori chiavi di Roma in doppia cifra, ne sono andati tre e questo è stato un fattore statistico fondamentale. Rispetto a Biella invece è venuto fuori un giocatore diverso che è venuto, dove avevo detto che la responsabilità di tutti i tiri da tre punti erano i miei, come era capitato comunque con Meini, dove è andato in striscia, ha fatto canestro, dove lì la responsabilità su tutte le situazioni di pick and roll erano tutti miei. Come mi sono sentito? È chiaro che vincere fa sempre bene, soprattutto fuori casa, però quello che mi piace sottolineare riguardando la partita, proprio quegli ultimi minuti dopo il fischio finale, la corsa di Renzi e tutti che esultavano, questa è stata una cosa magica da apprezzare e da vedere perché comunque i ragazzi meritavano anche altre vittorie fuori casa, non ci siamo riusciti, questa volta ci siamo riusciti e questo è stato un bel segnale da parte di tutti. Dobbiamo affrontare Rieti come se fosse una finale per il semplice fatto che, come vi ho detto settimane fa, nelle ultime partite c'è sempre una sorpresa dietro l'angolo. Rieti è una squadra che lotta per non arrivare nei play out, è una squadra che non ha saccheggiato tanto come abbiamo fatto noi in trasferta, però ha sempre fatto delle buone partite in trasferte difficili, per esempio come in Scafati, giocandosele punto a punto e quindi sarà una partita pericolosa perché comunque le squadre che lottano per non retrocedere cercano di fare sempre qualcosa di particolare. Poi Rieti è una squadra che ha talento, cioè dei punti di riferimento e delle leggerchie ben precise. Lo stesso Pepper, Mortellaro che è uno dei migliori rimbalzisti offensivi di questo gruppo, lo stesso Bacler, sono giocatori che comunque hanno punti in mano e se gli dai la possibilità di prendere fiducia e di fare canesso diventa difficile.